Il nostro voto contribuisce a tenere lontane le destre, pavido chi parla ancora di governo di emergenza spiega e sulle alleanze sui territori frena, si decide caso per caso. Organici ridotti, poche tutele, stipendi non adeguati, vigili del fuoco in protesta in tutta la Puglia, dalla Bata al Salento, passando per Bari, fanno le barricate in occasione della manifestazione nazionale in piazza Sant'Apostoli a Roma. Liste d'attesa, la Basilicata accelera, la Giunta della Regione ha approvato il disegno di legge in materia di assistenza sanitaria a tema risorse per 5 milioni di euro, ma per l'unità di crisi sanitaria e il nuovo DL una fake news. Buon pomeriggio di nuovo insieme per l'appuntamento in diretta con l'informazione che oggi riapriamo con la politica perché il giorno del ritorno in Puglia di Giuseppe Conte per tirare la volata al Movimento 5 Stelle, tour che si chiuderà domani nel capoluogo, intanto alcuni elementi sono già messi in fila, il nostro voto contribuisce a tenere lontane le destre, conferma rispetto alle parole di Michele Emiliano delle scorse ore, Pavido che parla ancora di governo di emergenza sui territori e sulle alleanze, si decide caso per caso. Emiliano ha detto una cosa che è oggettiva, cioè chi vota noi non vota da Meloni e oggi ha detto che non faremo accordi con Fratelli D'Area e con la Meloni, queste ricette della destra sono assolutamente insostenibili, insufficienti, inadeguate, quindi è chiaro che il nostro voto contribuisce a tenere lontane le destre. Asse Conte Emiliano sul voto utile anche per il Movimento 5 Stelle in Puglia, confermato dalle parole del leader del Movimento Pentastellato, che ha avviato dalla periferia di Brindisi il suo tour pugliese, incontrando i cittadini del quartiere Sant'Elia insieme ai candidati territoriali del Movimento, dato in crescita degli ultimi sondaggi proprio nel mezzogiorno. Conte ha parlato anche di salario minimo ed escludendo ogni possibile accordo post-elezioni con Fratelli d'Italia, confermando invece, nonostante le distanze nazionali, l'alleanza con il PD regionale. Io ho detto che quando si prendono degli impegni con i cittadini si mantengono, le amministrazioni in corso che stanno lavorando bene non si toccano. Io ho detto che sicuramente d'ora in poi qualsiasi nuova prospettiva di una coalizione col PD sicuramente andrà discussa sui territori caso per caso, perché è chiaro, dopo quello che è successo non rimaniamo indifferenti. La regione Puglia c'è un'amministrazione in cui noi stiamo dando assolutamente una mano, continueremo a darla e ci impegniamo giorno per giorno per migliorare la qualità di vita dei cittadini e per offrire alla Puglia la possibilità di un grande riscatto. È una terra che sapete che conosco bene, è una terra che amo ed è sicuramente ha delle grandissime potenzialità. La situazione dunque in Puglia è chiara, chi vota 5 Stelle sta votando per un'alleanza con il PD e viceversa. Gli elettori hanno diritto di conoscere la verità e di avere chiaro il quadro delle future alleanze prima di esprimere la loro preferenza. Così Teresa Bellanova dal terzo polo sulle parole che abbiamo appena ascoltato, intanto lo stesso. Michele Emiliano nelle scorse ore ha presentato i candidati dei collegi della BAT. Michele Emiliano a Barletta a sostegno del centro-sinistra in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Il presidente della regione Puglia lancia un attacco al centro-destra, in particolare a Barletta concentrando la sua attenzione sia sulla vicenda Cianci che comunque non coinvolge gli aspetti istituzionali ma soltanto quelli personali, sia il quadro politico a tre mesi dall'elezione di Cannito a sindaco della città della disfida. Per Barletta ovviamente una delle questioni principali è senza dubbio quella della sicurezza, ma come capirete con un centro-destra che non ha riferimenti sul territorio, che è persino qui a Barletta un misto di soggetti in parte provenienti dalla sinistra e in parte insignificanti sul territorio, significa che peraltro con anche tutti i recenti scandali che si sono verificati perché è evidente che una delle principali figure dirigenziali del Comune di Barletta è in questo momento in stato di detenzione per fatti gravissimi, che peraltro come è noto è uno degli avvocati principali delle organizzazioni mafiose della città. Quindi c'è un clima generale qui a Barletta molto molto preoccupante, dubito diciamo così che i candidati del centro-destra parlino di sicurezza. Emiliano guarda anche al ruolo di Fratelli d'Italia la sicurezza dei cittadini, rappresenta la priorità del momento. L'appello vero è a non consentire innanzitutto una vittoria di un partito che è l'erede diretto e dichiarato del governo Mussolini. Loro sostanzialmente dicono che Mussolini era un buon politico, ha fatto degli errori, quindi loro si propongono di correggere dopo 70 anni gli errori di Mussolini, ma questi sono errori che non possono essere corretti, perché sono errori che ci hanno portato a fare guerra a tutti i paesi d'Europa. C'è però un altro caso che tiene banco anche nella metà campo avversario, un incontro elettorale per i dipendenti di Acquedotto Pugliese per di più obbligatorio. Secondo le contestazioni esplode il caso in regione, centrodestra all'attacco, il terzo polo annuncia un esposto, da via Cognetti però smentiscono. Una smentita, una denuncia e persino un esposto è l'epilogo triplice del caso esploso nelle ultime ore di campagna elettorale. L'accusa quella mossa ai vertici di Acquedotto Pugliese, rei, secondo le contestazioni del centrodestra, ma smentite fermamente da via Cognetti, di aver invitato i dipendenti allargando apparenti ed amici ad un incontro elettorale, obbligatorio peraltro, per sostenere la candidatura di Raffaele Piemontese, vicepresidente della giunta regionale e aspirante ad un posto alla Camera nel collegio di Foggia e Bat. In altre parole avrebbero iniziato ad utilizzare gli enti collegati alla regione per scopi elettorali. La questione è già in consiglio regionale. La citazione della nota azzurra la formalizza il gruppo forzista, la rilanciano i colleghi di Fratelli d'Italia, promettendo approfondimenti per capire se si possa trattare di voto di scambio, eppure dalla Lega. L'autrice del post che circola sui social fa sapere di non aver mai mandato messaggi del tenore di quello che circola, eppure di aver già fatto ricorso alla questura di Foggia per denunciare alla polizia la falsificazione di un messaggio Whatsapp con il suo nome e la fotoprofilo. Piemontese lo spiega e prende le distanze. I 5 Stelle fanno lo stesso. Dal terzo polo è Carlo Calenda, a chiamare in causa persino il segretario nazionale DEM Enrico Letta, annunciando un esposto se di buffoniere in un bicchier d'acqua si tratta. È tutto da vedere. Le piccole e medie imprese lucane incontrano i candidati della circoscrizione Basilicata, le prossime politiche del tema promosso da Agenda Basilicata, in un incontro che si è svolto a potenza nella sala conferenza di Camera di Commercio. Un incontro confronto con i candidati alle prossime elezioni del 25 settembre per condividere le principali azioni da mettere in campo a sostegno delle circa 49.000 piccole e medie imprese della Basilicata, la vera ossatura e impalcatura del sistema economico lucano. È questo l'obiettivo prefissato da Agenda Basilicata, associazione di imprese alla quale aderiscono C agricoltori, Conf agricoltura, Copagri, Conf esercenti, Conf artigianato, CNA, AGCI, Conf cooperative, Lega cooperative. Le varie associazioni di categoria hanno consegnato ai candidati un documento diviso per aree di intervento e settori, agricoltura e agroalimentare, artigianato, commercio e cooperazione, proponendo una serie di proposte ed indicazioni sulle necessità e sui principali elementi di sviluppo delle diverse filiere. Noi puntiamo molto sull'attenzione da parte della politica e delle istituzioni a questo tipo di impresa perché abbiamo due livelli di esigenze. La prima è quella di essere sostanzialmente aziende diffuse sul territorio con grandi capacità produttive e occupazionali. La seconda è che vogliamo competere e abbiamo almeno quattro temi importanti sui quali puntare. La prima è la sburocratizzazione e la semplificazione. La seconda è il costo del lavoro e l'occupazione. La terza questione è la fiscalità. Soprattutto in questo momento noi abbiamo bisogno di un fisco leggero, un fisco amico. L'altra questione sulla quale puntiamo sono le infrastrutture. In Basilicata è più difficile degli altri posti d'Italia fare impresa, soprattutto quella piccola e media. Abbiamo bisogno di infrastrutture, sia quelle cosiddette materiali e quelle immateriali. archiviamo la pagina politica per aprirne una dedicata alla giudiziaria e nello specifico al terremoto che sta investendo il centro di Otranto. Parchi per bambini e giostre senza collaudi, anche questo tra i presunti favori contestati dei fratelli Cariddi agli imprenditori. Parchi per bambini e giostre senza collaudi emergono ulteriori dettagli nell'inchiesta che ha intrecciato per anni ed apparentemente in modo indissolubile l'operato dei fratelli Cariddi e di numerosi imprenditori salentini. Nella rete dell'inchiesta guidata dal giudice per le indagini preliminari Cinzia Vergine sarebbero finiti anche Stefano Papadia e Antonio Ricchiuto, che secondo le carte nel 2015 vinsero un bando di gara per l'affidamento del parco di via Porto per dieci anni, da utilizzare per manifestazioni varie ed impegnandosi a corrispondere al comune di Otranto la somma di 100.000 euro. Nel 2018 Ricchiuto costituì con Stefano Papadia una società ad hoc per la gestione del suddetto parco, società che normativa vigente vincolava ad un'attività senza scopo di lucro, ma le indagini documenterebbero altro. Secondo gli inquirenti infatti la società operò proprio in quegli anni in totale assenza delle prescritte autorizzazioni, in totale abuso avendo avviato all'interno del parco giochi una vera e propria attività imprenditoriale grazie, riporta l'inchiesta, alla connivenza di amministratori e polizia locale. Proprio il 9 ottobre 2018 infatti presso lo studio Caridi, come riportato nelle carte, gli imprenditori ammettevano di aver lavorato un'intera stagione senza presentare scia e collegiostre sprovviste di collaudo. Al Comune ci hanno voluto bene per l'ennesima volta, avrebbe riferito Antonio Ricchiuto a Caridi, altrimenti ci avrebbero bloccato tutto durante la stagione. Ricchiuto avrebbe inoltre messo al corrente Luciano Caridi, che aveva acquistato una giossa di 43 mila euro, che nonostante non potesse essere utilizzata, poiché è priva del codice identificativo, era comunque stata impegnata oltre il periodo di chiusura. A questo punto Caridi avrebbe rassicurato i suoi interlocutori, dicendo che si sarebbe occupato lui stesso della questione, presso gli uffici comunali, vi dovete fermare poco poco, lo tempo cubo accordo, adesso vedo come state e come iti spicciare, si legge nelle intercettazioni. Ancora giudiziaria, ma per il caso Agis che va avanti con i dubbi del Tribunale del Riesame, forse si teme intenti speculativi. Quando denunciò di aver subito violenza sessuale da regista e sceneggiatore premio Oscar, Paul Agis, facendolo così arrestare, la 29enne inglese potrebbe aver avuto intenti speculativi e l'ipotesi dei giudici del Tribunale del Riesame di Lecce, che hanno motivato così il rigetto all'appello della Procura di Brindisi contro la revoca dell'arresto del regista, finito ai domiciliari il 19 giugno e rimasto detenuto fino al 4 luglio. Le presunte violenze sarebbero state commesse in un B&B di Ostuni, dove il regista avrebbe dovuto partecipare al Festival di Cinema Allora Fest. Per tre giorni consecutivi, aveva denunciato la 29enne, il premio Oscar avrebbe abusato di lei per poi lasciarla in aeroporto, ferita e confusa, all'alba del 15 giugno. Il racconto fatto dalla donna nel corso dell'incidente probatorio, secondo i giudici, è non pacificamente attendibile e ha gettato pesanti ombre sulla sua attendibilità, compromettendo notevolmente il requisito della gravità indiziaria. Nel provvedimento sono trascritte alcune conversazioni tra la presunta vittima e Equis, il cui contenuto rivela con chiarezza un corteggiamento che la donna rivolge al regista. Della presunta vittima, i giudici evidenziano infatti la personalità volitiva e determinata che mal si concilia con l'immagine che si tenta di delineare, quale persona sprovveduta, confusa, sottomessa, obnubilata dalla personalità del regista famoso. Anche stracci di conversazioni in chat con un'amica, in cui le due parlano di ricerca di partner economicamente forti, tanto da garantire loro un adeguato benessere che sarebbe ricompensato dalla disponibilità sessuale, mal si conciliano, dice il Tribunale, con la descrizione della vittima, quale donna debole e soggiogata dalla personalità dell'indagato. Il Tribunale, si legge nelle motivazioni, ben lungi dal voler anche solo sfiorare una valutazione morale, ritiene in definitiva che la situazione che plasticamente si evidenzia è il tentativo di un approccio della donna nei confronti di Aegis, personaggio molto noto e verosimilmente economicamente solido, il quale accoglie l'iniziativa della giovane verosimilmente solo per una esperienza di conoscenza sessuale che gestisce probabilmente con modalità spicciole e poco rispettose. Un'altra inchiesta della quale vi abbiamo già dato conto è quella Game Over, che torna in aula, vediamo con quali risultati. Si è tenuto dinanzi al giudice Simona Panzera il processo sull'inchiesta sul clan Briganti smantellato nello scorso aprile con l'operazione Game Over dalla squadra mobile di Lecce. La sostituta procuratrice Giovanna Cannarile ha chiesto il processo per 21 delle 23 persone coinvolte nelle indagini. Il reato di associazione mafiosa è contestato a Marti e Zecca nel ruolo di promotori, dirigenti e organizzatori e a Fabio Briganti, a Leandro Capone, Francesco Capone, Daliene De Vergori, Gaetani, in qualità di partecipi, mentre non è contestato a Maurizio Briganti, che pure viene ritenuto dagli inquirenti capo indiscusso del clan, già condannato quattro volte per associazione mafiosa con sentenze irrevocabili. Stando alle indagini avviate nell'estate del 2019, l'organizzazione che porta il suo nome, il cui cuore pulsante sarebbe la zona alle vele della 167 di Lecce, avrebbe fatto affari d'oro nel traffico e nello spaccio di sostanze stupefacenti e nelle estorsioni imprenditori e ambulanti che operavano nella zona dello stadio comunale di Via del Mare, in occasione di incontri di calcio e di eventi musicali e per gestire i parcheggi abusivi durante le feste e manifestazioni, adottando anche metodi violenti con i responsabili di infamità. Secondo le carte dell'inchiesta, tra i promotori del gruppo, che si sarebbe avvalso anche di armi da guerra, Marti, cognato di Maurizio Briganti, avrebbe dispensato consigli e solidari riguardo azioni violente, come quella del tentato omicidio di Riccardo Savoia. 2 milioni e 600 mila euro sottovuoto in buste occultate in congelatori fuori uso sono stati sequestrati dai carabinieri in un'abitazione di Galatina, di proprietà di un 76enne. L'ipotesi è che possano essere il tesoro riconducibile al clan Coluccio. Oltre 2 milioni e 600 mila euro messi sottovuoto in buste occultati in due congelatori fuori uso è quanto hanno sequestrato i carabinieri in un'abitazione di Galatina, di proprietà di un uomo di 76 anni. Una scoperta probabilmente frutto delle dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi alla procura distrettuale antimafia di Lecce, che ha depositato i verbali dell'ascolto del neocolaboratore di giustizia Gerardo Dino Coluccia, 49enne legato da vincoli di parentela ai clan storici del clan Coluccia, attivo nell'Interlanda galatinese. Gli investigatori ipotizzano infatti che il tesoro scoperto sia riconducibile a Glan Coluccia, sodalizio della Sacra Corona Unita e gemone su Galatina e dintorni. I soldi erano stati riposti in anvari, involucri di celofan sottovuoto in due borsoni chiusi con due lucchetti e riposti in due congelatori spenti nel vano scala dell'abitazione di un parente ed esponente del clan. E questo avvalorerebbe il sospetto degli inquirenti che nel blitz si sono avvalsi delle unità del gruppo cinofili di Modugno. Per l'uomo è scattata una denuncia per possesso ingiustificato di valori. Gli investigatori sono al lavoro per verificare la provenienza del denaro. Tutt'altro tema, Castrignano del Capo, i funerali del ciclista morto a Montemesolo durante la partecipazione ad una gara ciclistica, il trofeo Madonna della Fontana. Silenzio, rispetto e tanta partecipazione in segno di vicinanza per i familiari di Massimo Ferilli nel giorno del suo funerale. All'ultimo saluto nella chiesa madre di Castrignano del Capo, a pochi passi dalla sua agenzia, hanno preso parte non solo i concittadini ma anche gli amici e tutti quelli che con lui condividevano la passione per la due ruote. Come i membri del gruppo ciclistico Capo di Leuca, che lo hanno definito parte integrante e anima del gruppo, descrivendolo come educato, rispettoso, mai fuori le righe, mai una parola offensiva. Pensare che una giornata di festa, una giornata dedicata allo sport potesse trasformarsi in tragedia veramente non l'avevamo proprio considerato. E per noi è stata una grave perdita perché Massimo era un cittadino, un amico, una persona per bene. Di quelli che generoso, una persona che aveva una parola per tutti, una persona che era silenzioso ma è un silenzio che riempiva gli animi e riempiva i cuori. Ed inoltre era una persona che era gentile con tutti e quindi per noi stava veramente una grave perdita. Le esecue sono state celebrate dal parroco Don Fabrizio Gallo che si è rivolto alla moglie Deborah e ai figli Giorgio e Sara. Avete bisogno di tante cose, ma una su tutte necessaria, la fede Cristo. Dal punto di vista umano ogni parola sarebbe superflua e un'appropriata, meglio tacere, ma per superare il dolore. Bisogna guardare a Cristo che con la risurrezione ha distrutto il potere della morte. Abbiamo argomento organici ridotti, poche tutele, stipendi non adeguati. Vigili del Fuoco in protesta in tutta la Puglia nel giorno della manifestazione nazionale in piazza Santi Apostoli a Roma, Bari compresa. Vediamo com'è andato. Ulteriori assunzioni, nuove risorse e maggiori tutele. Queste in sintesi le rivendicazioni di CGL, CISLE e CONFSAL in rappresentanza di lavoratori e lavoratrici. Ciò però che è iniziato sin dal primo mattino davanti al comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari. Il corpo dei Vigili del Fuoco, si legge in una nota diffusa a mezzo stampa, è in assoluta emergenza. Sono pochi, scarsamente considerati, non adeguatamente pagati e con nessuna tutela. Oltre all'aumento degli interventi, anche per via del cambiamento climatico, passati da 700 mila a un milione negli ultimi tre anni, sul piatto ci sarebbe anche il rinnovo del contratto 2022-2024, che, si sostiene ancora, deve trovare la sua conclusione prima della scadenza del triennio. Le ragioni di questa protesta, che rientra in una protesta di un contesto nazionale, è relativa alla grave carenza di organico. Attualmente il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si attesta a un organico di circa 33 mila unità operative. Chiediamo di raggiungere almeno 40 mila unità operative, al fine di poter garantire a tutti i cittadini un soccorso efficace ed efficiente. Quello che noi chiediamo a livello nazionale è il riconoscimento della malattia professionale. È un'assicurazione INAIL. In questo momento i Vigili del Fuoco non sono tutelati e non c'è lo snellimento nelle procedure di richiesta di riconoscimento delle cause di servizio. Grazie. Oltre alle problematiche già esposte dai miei colleghi, volevamo ricordare che c'è il rinnovo contrattuale per gli anni 2022-2024, che è praticamente scaduto ormai da otto mesi. E non è possibile continuare ad andare avanti con il carovita che oggi c'è ormai in Italia e con l'aumento dei trasporti, continuare ad avere soltanto vacanze contrattuali che non valorizzano il nostro stipendio e quindi la nostra mansione alla Vigili del Fuoco. Carceri, assenza di medici, problemi strutturali, quella di Potenza è la settantottesima tappa del tour tra le strutture penitenziarie del segretario generale del sindacato di categoria S.P.P. Aldo Di Giacomo. Settantottesimo carcere in cui sono passato in visita, la situazione della Basilicata è una situazione molto complicata, soprattutto per la carenza organica, soprattutto nelle carceri di Matera e di Potenza. Smelfi molto eventi critici, però dai giri che ho fatto e ho riscontrato che in Basilicata abbiamo un problema enorme. Per quanto riguarda Potenza, entro l'anno si riaprirà la metà del carcere. Già vi è una sofferenza enorme con il personale che abbiamo adesso. Figuriamoci con la riapertura delle altre sezioni. Ma un'altra cosa che mi lascia veramente molto preoccupato è l'assenza di medici. Un problema, quello dell'assenza di medici all'interno delle carceri italiane, che il segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria S.P.P. Aldo Di Giacomo ha riscontrato in tutta Italia. I molti bandi andati deserti hanno accentuato la problematica soprattutto negli istituti di Potenza e Melfi, nel primo aggravata anche dall'assenza di uno psichiatra. Problema questo che si aggiunge alle altre tante carenze strutturali che vedono i detenuti costretti a vivere in condizioni spesso proibitive. La situazione strutturale è drammatica, guardi. Le ha toccato un tema essenziale perché se non si pone al centro la costruzione di nuove carceri, noi saremo costretti, come abbiamo fatto negli ultimi vent'anni, a ricorrere a indulti e amministrie perché i problemi che hanno portato poi alla concessione di indulti amministri sono essenzialmente legati alle strutture. Bisogna ricostruire carceri per questo motivo, per garantire la certezza della pena senza mai dimenticare che dall'altra parte del carcere ci sono le vittime o i familiari delle vittime che non devono essere beffeggiati, ma soprattutto bisogna tenere conto che al centro del sistema carcerale non è tanto la punizione ma la rieducazione. Restiamo a parlare di assistenza e di sanità perché la Basilicata accelera sulle liste d'attesa. Ve ne abbiamo dato spesso conto riguardo le iniziative pugliesi. C'è un disegno di legge della regione Basilicata, vediamo che cosa contiene. È stato approvato in giunta il disegno di legge per l'abbattimento delle liste d'attesa. Problema è quello dei ritardi nell'erogazione delle prestazioni sanitarie che si è acuito a seguito della pandemia e da ritardi ereditati da 20 anni di cattiva gestione. Abbiamo approvato in giunta il disegno di legge in materia di assistenza sanitaria per abbattere liste di attesa. Sappiamo bene che ci sono molte criticità che causano tanti malumori tra i cittadini. Purtroppo la pandemia ha aggravato i problemi che abbiamo ereditato dopo 20 anni di cattiva gestione. Ma siamo al lavoro per risolvere questi problemi. Con la rimodulazione del piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa previsto dal DL, la Giunta e l'assessorato hanno impegnato le aziende sanitarie lucane a recuperare entro il 31 dicembre 2022 le tantissime prestazioni arretrate nel rispetto delle risorse loro assegnate. Risorse che ammontano circa 5 milioni di euro, di cui 600 mila destinati agli erogatori privati. Il problema delle liste d'attesa era stato sollevato anche nell'ultima riunione della Quarta Commissione a seguito della quale i consiglieri regionali Viziello e Zullino avevano chiesto la convocazione di un consiglio regionale ad hoc dedicato esclusivamente alla problematica. Sul tema si era anche espresso il Presidente dell'Ordine dei Medici di Potenza, il Dottor Rocco Paternò, che ai nostri microfoni aveva affermato come la carenza di medici negli ospedali e nei presidi ha accentuato l'alluncamento delle liste d'attesa a tutto svantaggio dei cittadini che si vedono così depredati del diritto di cura. Per l'unità di crisi sanitaria, intervenuta sul tema, i fondi stanziati non rappresentano però nulla di nuovo. I 5 milioni annunciati sono sempre gli stessi del piano approvato il 27 luglio scorso con la delibera 487 del 2022. Si tratta quindi per l'associazione di un'autentica fake news che ridicolizza il dramma di pazienti, strutture e dipendenti. E possiamo chiudere con la pagina delle proteste. Questo è il sit-in degli autotrasportatori a Taranto questa mattina. Viaggia verso una risoluzione positiva all'avvertenza degli autotrasportatori tarantini che rivendicano garanzie occupazionali per gli operatori locali in merito all'appalto per la consegna del carburante. Un'intesa di massima è stata raggiunta nel corso del confronto che si è svolto presso la sede di Confindustria Taranto e che ha visto la partecipazione dei rappresentanti dell'ENI, dei vettori e dei sindacati, oltre all'USB anche la triplice sindacale. Da tutte le parti in causa è stata precisata la volontà di rispettare il ricorso ad una quota del 50% degli autotrasportatori locali nell'effettuazione dei servizi di distribuzione, come sempre avvenuto finora. Dovranno ora essere definiti i particolari tecnici dell'accordo, che sarà poi nuovamente sottoposto ai sindacati e alla Prefettura, che ha svolto una fondamentale opera di mediazione. Proteste ai blocchi stradali e l'incubo del carburante esaurito nelle colonnine tornano pertanto nel cassetto. ENI ha ribadito i concetti per noi fondamentali che il lavoro rimane sul territorio. Tra l'altro, dopo che abbiamo credito bene, oggi facciamo un plauso perché è stato veramente fatto da garante la discussione. Adesso c'è il tavolo tecnico fra le società, stanno trovando una quadra per garantire a tutti gli autotrasportatori locali pari dignità e diritti e quindi garantendo in continuità quello che è stato negli ultimi 50 anni la storia del trasporto sul Taranto. Un primo passo positivo, adesso le aziende fra di loro faranno i loro ragionamenti commerciali e tecnici e dopo ritorneranno da noi per, immagino, la ratifica di un accordo più generale che possa normare nel lungo periodo questa vicenda. Ci fermiamo, torniamo tra poco, state con noi.